Ciavi allarga per Luis Suarez che va in orizzontale verso Neymar, i controlli Neymar, sterza Neymar, guarda la porta Neymar! 3 minuti e 3 secondi sul cronometro, il primo colpo del classico, lo batte il Barcellona con Neymar. La posizione è regolare, Benzema ti ci fa bravo, poi finisce giù, il pallone era già passato. Nulla a segnalare per Achille Manzano, aspettiamo un replay, la situazione che però Benzema sia arrivato prima e non abbia trovato la porta. Guizzo di Marcello che entra in area di rigore, può servire Benzema, c'è una sporcatura decisiva di Claudio Bravo. Che parata, che parata! Carvacali, il poato del Bernabeu, a spingere i merenghazzo verso il pareggio, Pique in anticipo su Benzema, ancora Camus, chiude Mascherano, calcio d'angolo, tutti in piedi. Ci riprova ancora di lì il Real Madrid, però stagliato per Benzema, lo ferma la traversa, non è finito Benzema, arriva prima di Mascherano, poi calcia il primo anello, non è nemmeno fortunato che arriva in Benzema. Luis Suarez è in mezzo per Messi! Casillas! Casillas! Che parata! Camus per Marcello, deve proporsi bene il brasiliano. Rigore, rigore, rigore! Calcio di rigore chiarissimo per il Real Madrid. Parte Cristiano Ronaldo, lo spiaggia, 1-1 il Bernabeu al 35esimo! Marcello aspetta l'arrivo proprio di Camus, anche a carenza, lo fa a noi di testa e lo mette fuori. E il gol di testa, lo segna Pepe, che porta avanti il Real Madrid, forse il protagonista meno atteso, ma al 50esimo, la ribalta a lui! Casillas deve volare sul primo palo, sulla sventola estemporanea di Mathieu. Esce ancora dalla panchina Luis Enrique, qua iniesta, manda contro Tempo Mascherano. E allora, l'offerta di Isco per l'arrivo di Cristiano Ronaldo, un po' a metà fra Camus e Benzema, dal colombiano a Benzema! Benzema! Voilà! Benzema! Segna il terzo gol! Busquets è notte fonda per lui, Benzema fa correre Camus, il colombiano per cross, Benzema! Ci fa solo vicino, che contropiede sfavillante del Real!